licenziamenti, precarietà e noi invitiamo questi personaggi a un'iniziativa che si chiama la festa del lavoro e allora non domandatevi perché non funziona la vostra sinistra perché la sinistra parte dalle ragioni vere, dei disoccupati, degli occupanti casa di chi veramente soffre la miseria quotidianamente non rottami o riciclaggi per le prossime elezioni ma dando voce a questa gente, a noi che tutti i giorni siamo in piazza e non di certo a chi rappresenta il Regione Campania esattamente chi sta portando avanti il massacro di questo territorio e di questa Regione e soprattutto non chi oggi parla del lavoro e fino a ieri stava a scimmiottare con i governi di centro-sinistra il Jobsat, la Buona Scuola, lo Sblocchetaria, le leggi che hanno distrutto il mercato del lavoro dal pacchetto 3 fino ad oggi o ai responsabili sindacali che oggi tacciano rispetto a quello che succede fuori ai stabilimenti della logistica o non dicono una parola davanti a un movimento di disoccupati che viene trattato come se fossero dei delinquenti da un Presidente che si permette di dire andate a fare a muire da un'altra parte lo abbiamo capito, o state con i disoccupati o state con questa gente noi da qui non ce ne andiamo perché o siamo noi o sta Vincenzo De Luca i rappresentanti vecchi e nuovi del PD e chi pensa ancora una volta di fare una campagna elettorale sulla testa della gente